I carabinieri della compagnia di Bagnoli nelle prime ore di questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della DDA nei confronti di 10 indagati, 6 persone in carcere e 4 agli arresti domiciliari, indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In sostanza lo spaccio avveniva durante il lockdown nel rione Traiano. L'attività investigativa coordinata appunto dalla DDA Partenopea è condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli ha documentato l'esistenza all'interno del rione di un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti di vario genere, cocaina, marijuana e hashish, attiva anche durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. Il provvedimento è eseguito una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. I destinatari sono Aniello Cotena, Vincenzo Delle Cave, Gaetano Minichini, Ciro Muzzico, Gennaro Pirozzi, Luigi Sebillo, Marco Calandra, Mirko Parlato, Enrico Pizzo e Luca Tuccillo.